Qual è la prima regola di ogni gioco, signor Grimm? Per diventare più furbo, devi giocare contro un avversario più furbo. Bravo, è la seconda regola di ogni gioco. Più sofisticato è il gioco, più sofisticato è l'avversario. Che più o meno è la stessa cosa. Ma quando si ferma? Quando si ferma il gioco? Si ferma quando mi darete delle risposte. Non lasciarli scherzare con la tua mente, Jack. Sa che sono io a scherzare con la sua mente, signor Grimm. Sente quella voce da così tanto tempo che ormai crede sia la sua. Crede che sia il suo migliore amico. Devono credere che l'avversario sia il migliore amico. Dove deve nascondersi un avversario? Nell'ultimo posto dove guarderesti. Sa chi è Sam Gold, signor Grimm? Dovrebbe. Perché lui lo sa chi è lei. Will Gold. Sam Gold. Il signor clandestino. Il signor ambicuo. Il signor mistero. Lui è qui dentro. E finge di essere lei. Nessuno vede Gold. Ma Gold vede tutto quanto. Lei fa parte di un gioco, Jack. Fa parte del gioco. Tutti sono nel suo gioco. E nessuno lo sa. E tutto questo... Tutto questo è il suo mondo. Gli appartiene. Lo controlla. Basta, queste stronzate mi confondono. Digli che ne hai abbastanza. Will le dice cosa fare. Adesso basta. E quando farlo? Diglielo. Ti ho detto adesso basta, Avin! Alla fine, quando l'avversario viene sfidato e interrogato, significa che hai messo in dubbio l'investimento della vittima e quindi anche la sua intelligenza. Nessuno può accettarlo. Nemmeno da se stesso. C'è lui dietro tutto il dolore che c'è stato. Dietro ogni crimine che è stato commesso. Come posso esserci io dietro tutto il dolore da ogni crimine se non esisto nemmeno? E adesso le sta dicendo che non esiste nemmeno? Nessuno resta vivo se scontenta Gold tranne la tua coppia d'amici. L'abbiamo messa in guerra contro l'unico nemico che sia mai esistito e lei pensa che sia il suo migliore amico. E proteggeranno il loro migliore amico in ogni modo possibile. Lei lo sta proteggendo, signor Green. Ma con che cosa? Qual è il posto migliore per nascondersi per un avversario? L'ultimo posto dove guarderebbe. Lui si nasconde dietro il suo dolore, Jack. Lo sta proteggendo con il suo dolore. Abbracci quel dolore e vincerà questa partita. E io so che non c'è niente di peggio che venire umiliati e perdere dei soldi. Se cambi le regole su ciò che ti controlla cambierà le regole su ciò che può controllare. Si sente pronto ad un'azione radicale, signor Green?